Albano ha parlato nuovamente del suo legame con la sua ex moglie Romina Power. Stavolta, l'ha definita come una sorella. Ecco il racconto del cantante. Il cantante pugliese e la Power hanno fatto sognare per anni i migliaia di fans. La loro è stata infatti una coppia che ha sin da subito conquistato i cuori di tutti. Sia per la loro visibilissima unione sia per il loro sodalizio musicale. Poi, c'è stata l'improvvisa rottura tra i due e il conseguente distaccamento professionale. A distanza di tempo dalla loro separazione, Albano si è innamorato di Loredana Lecciso. La donna che gli è accanto anche tuttora e che gli ha donato. Adesso, cosa pensa Albano della sua ex Romina Power? Scopriamolo insieme. Cosa pensa Albano della Power? Ecco la risposta del cantante. Durante una sua ospitata nella trasmissione, Verissimo, condotta da Silvia Tofanin, Albano ha svelato alcuni particolari della sua vita privata, confessando aneddoti che non erano ancora stati svelati. Durante il racconto della sua vita, spunta spontaneamente la sua ex moglie Romina Power e l'importanza che la cantante ha avuto nella vita di Albano. A distanza di anni, i due sono infatti tornati a cantare insieme. Dopo aver messo da parte tutti i conflitti e le diatribe che li avevano divisi. Con il loro ritorno, sono tornati anche i tanti rumors che li vedevano protagonisti di un presunto ritorno di fiamma. Albano ha così deciso di mettere a tacere definitivamente i pettegolezzi, e lo ha fatto con una frase che ha davvero spiazzato tutti. Siamo come fratello e sorella, ha detto il cantante pugliese. Mettendo così la parola, fine, alle indiscrezioni sul loro conto. Poi si torna a parlare di Loredana Lecciso. Dopo il racconto riguardante la sua vita del passato, al fianco di Romina Power, si arriva alla Lecciso e a quanto lei sia stata importante sin da subito per l'artista pugliese. Loredana ha infatti fatto ritrovare nel cantante la voglia di amare ancora e il desiderio di continuare a vivere. Nonostante tutti i momenti negativi vissuti a causa della sua separazione. Ancora oggi, la Lecciso continua ad essere una perfetta partner per Albano. Ed è stato infatti proprio lui a parlare di lei durante l'intervista. Con lei va benissimo, ha raccontato il cantante originario di Cellino San Marco. Devo dire che è una compagna straordinaria. Così. Albano ha dato dimostrazione di quanto il loro amore stia andando sempre meglio. Iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.